E' giunta la tua ora, umano. Vacciniamolo! Non voglio morire! Sì, salve, vorrei fare il batch fatto. Com'è fatto? Già fatto. E la siringa? Già infilata. Sì, ma il liquido del... Già iniettato. E quindi? Se ne può andare fuori dai coglioni. La ringrazio, arrivederla. Salve. Prossimo! Salve signora, mi dica. Buongiorno dottore, io dovrei fare il rooster. Il che? Il rooster. Non credo di aver capito... Il booster! No, ma signora... Il twister! Abbiamo il twister? Devo rinnovare il grinder pass! Deve fare il booster! Esatto! Andiamo a pennare, bro! Ma che cazzo! Adesso cosa facciamo? Aspetta, ho io la soluzione. Oh, finalmente! Non prendeva un cazzo! Dei vederci! Buonasera! Ma che piacere vederla, è la prima volta? Eh sì, sa dottore, ero un po' sceltico sui vaccini, ma alla fine mi sono convinto. Ha fatto benissimo! Un grande passo per la collettività! Ma che è sta cafonata? Il mio braccio! Ma la pompatura! Eh, sa tante ore su two bait! Ma non di caffesseria, è di comma, ma non si vergogna! No! No! Già mai mi inietterò il siero della falsità! Non lo farò mai il vaccino! Non lo farò mai il vaccino! Non lo farò mai il vaccino! E invece l'ha già fatto? Come l'ho già fatto? Su, Canovax! No! Dottore! Ah! Buongiorno! Sono venuta per la terza dose! Prego, non si accomodi! Scusi il disordine, ma stiamo allestendo il nuovo studio e... Non si preoccupi, dottore! Mi farà male? No, si figuri! Non lo sentirà neanche! Ecco, qui... Fatto! Ma... Ma come? Ah! Ho visto le mie spade di eroina! Osti! Va un cazzo! Vabbè! 54! 5! 4! Sono io! Prego signora, mi dica! Che cos'ha di buono? Ah, guardi! Oggi ho un Pfizer freschissimo che ho aperto ieri! E una strazeneca incredibile che è in offerta! Mi dia quello in offerta! Perfetto! Ho una bella strazeneca! Che faccio una dose? Faccio una e mezzo, meglio abbondare! Una e mezza, una e mezza! Ho fatto due dosi, che faccio? Lascio? Sempre i soliti voi dottori! Lasci, lasci! Perfetto! Ecco qui! Il prossimo! 55! Mamma, ti ho detto che sto bene! No, non mi ha dato effetti indesiderati! Senti, è già passato un giorno! No, ti ho detto... Ma ti ho detto che sto benissimo! Oddio, che ha finto il braccio! Mamma, io... Te l'avevo detto che quella roba lì fa male! Ha fatto il vaccino? Vabbè, sei iscritto in palestra! Guarda che pericolosa! C'è gente che muore! Ha tirato su due chili! Mamma, voglio fare farmacista! Ci sta! Fare i soldi come un farmacista! Ci sta! 100k con i tamponi! Ci sta! Ci sta! Lamborghini, Gucci, bella vista! Ci sta! E contare...